La stagione delle trimestrali è nel vivo, in America stanno per uscire i dati sull'inflazione eppure le borse continuano a essere deboli. Cosa fare? È l'ora di comprare o è l'ora di vendere? Ce lo dicono gli esperti di House of Trading. Andiamo a vedere chi vi risponderà, chi sarà anche a vostra disposizione, chi metterà le carte sul mercato. Per la squadra dei trader ritroviamo Filippo Giannini. Benvenuto Filippo. Buonasera Riccardo, buonasera a tutti. Andiamo a scoprire quella che è la prima strategia che metterà in campo questa settimana Filippo Giannini. Filippo, allora, da cosa iniziamo? Carta rossa o carta verde? Sì, la prima è una carta rossa, è una carta rossa con la quale andiamo sul nostro FuzziNib. Secondo me, dopo le vendite, in particolare alle quali abbiamo assistito nelle giornate di 5, 6 e 9 maggio scorso, quindi la giornata di ieri, il mercato potrebbe rimbalzare dai minimi, però è chiaro che comunque sia la correzione è stata importante e quindi io mi aspetto, insomma, che queste vendite lasciano poi degli strascichi, perché comunque, insomma, parliamo di un ribasso importante, il mercato nel giro di tre sessioni ha perso quasi il 7%, e quindi la strategia, diciamo, ecco, cercherà di sfruttare un eventuale ritracciamento di prezzo in area 23.500 punti, livello che il mercato ha cercato di difendere nel corso del mese di aprile, prima o poi, insomma, di romperlo al ribasso, nella giornata del 5 maggio, quindi dando di fatto il là proprio all'estensione delle vendite e quindi è un'operazione, è sostanzialmente un sell limit a quota 23.500 punti, lo stop è uno stop piuttosto contenuto, a quota 23.750 punti, il target è a quota 23.150. Secondo te stiamo andando a toccare i minimi dell'anno? Il rischio c'è. Io credo che, sostanzialmente, mi aspetto, in virtù della dinamica di prezzo attuale, mi aspetto che il mercato possa tranquillamente fare i 22.2, che ritengo essere l'ultimo livello di supporto in grado di impedire poi effettivamente un ritest dei minimi annuali, quindi, secondo me, sarà molto importante osservare la dinamica di prezzo se il mercato dovesse scendere su questi livelli, perché è l'ultimo baluardo prima poi di vedere un ritest appunto di quota 21.000 punti sicuramente. Secondo te si è rotto qualcosa nel legame degli investitori rispetto alla componente azionaria? Perché se andiamo a vedere, sì, vi è la crescita dei rendimenti, penso al Bund, penso al TNOT, ma sono tutti rendimenti che, insomma, non è che sono poi così elevati, se confrontati a quello che è il costo della vita. Eppure abbiamo un mercato azionario che, indubbiamente, ha corso, e veniamo da un trend rialzista pluriennale, forse il più lungo della storia, però, ecco, sembra che un po' il passo sia stato perso. Ma sicuramente quello che vediamo nella fase attuale è una forte sfiducia nel comparto azionario, e quindi è chiaro che sicuramente comunque si appesano i rialzi sui rendimenti di titoli di Stato, anche se, come dicevi giustamente tu, insomma, seppur frazionali, insomma, in valore assoluto, però, insomma, ecco, sicuramente per quanto riguarda l'Europa, tutti i rischi, insomma, collegati alla mancata crescita economica, i timori, insomma, ecco, per una guerra che comunque sia, diciamo, impatta sul mercato delle materie prime. E quindi c'è, secondo me, un mix di fattori che provoca in questo momento una sfiducia e l'aspetto, secondo me, più importante è che per ora, diciamo, non se ne vede la fine, nel senso che penso che tutti, cioè, sono concordi, anche analisti delle maggiori banche d'affari, che il mercato potrebbe tranquillamente, parlo dei listi nazionari, il mercato potrebbe tranquillamente correggere ancora rispetto a quelli che sono sui minimi attuali. Questo penso sia l'unica cosa su cui siano praticamente tutti d'accordo. Nell'insieme degli argomenti di cui abbiamo parlato finora, peraltro non abbiamo citato quella Cina, che, insomma, rischia da un lato, con i suoi lockdown, di peggiorare ancora l'outlook della crescita globale in questo 2022 e poi, essendo la fabbrica del mondo e il blocco dei porti, potrebbe ulteriormente aggravare il quadro economico di realtà, come il vecchio continente, che, insomma, sappiamo da anni ormai, da capire se giustamente o meno, ha deciso di delegare questa politica industriale all'ex impero celeste. E allora, abbiamo visto la prima strategia, l'abbiamo messa a referto a casa, vi ricordo, se volete, uno, avete il sondaggio da votare, si parla di spread BTP Bund quest'oggi, ma soprattutto potete inviare le vostre domande, commentare le strategie dei protagonisti di House of Trading. Filippo, la seconda strategia che metti in campo questa settimana, su Cosaverte? Sì, parlavi poc'anzi di Cina, dei nuovi lockdown, e qui va inquadrata anche in questo scenario geopolitico la seconda strategia di oggi, ovvero che è una strategia sul petrolio, sul VTI, VTI che chiaramente rimane, diciamo, ecco, rialzista, e personalmente rimango con un'ottica rialzista di medio e lungo periodo, però sicuramente nel breve sta scontando anche appunto quella che è la situazione legata ai lockdown in Cina, e quindi nel brevissimo, diciamo, ecco, un surplus di offerta. Questo ha spinto, diciamo, ecco, le quotazioni ad indietreggiare, dopo aver testato nuovamente quota 110 dollari, e anche qui vale un po' lo stesso discorso fatto per il Fuzzimib, nel senso che il mercato nella giornata di ieri, comunque sia, è sceso, è sceso molto, quindi il mercato, se non sbaglio, ha fatto una barra, insomma, intorno al meno 6, e insomma, ecco, per quanto la volatilità di questo strumento sia particolarmente elevata nel corso dell'ultimo periodo, però comunque sia una barra da meno 6, non è un qualcosa che vediamo tutti i giorni. Quindi anche qui credo che sia una, diciamo, ecco, uno strappo destinato a lasciare il segno, e anche qui cercheremo di intercettare un eventuale pullback in area 106, per andare a riposizionarci nuovamente short. Lo stop è a quota 108 dollari, mentre il target è a quota 104. Ascoltami, vedevamo un grafico del petrolio, una sua declinazione VTI, che ormai da diverse settimane è all'interno sostanzialmente di un ampio, ma di un trading range, arrotondando la soglia dei 90 dollari al barile parte inferiore, e quella dei 110 parte superiore. In questo peso e contrapeso delle forze che muovono il prezzo del petrolio, cos'è che sta guidando ora il lockdown in Cina? Perché vediamo come l'Europa abbia annunciato, Ursula von der Leyen ha comunque anticipato, che non saranno eventualmente sanzioni che avranno applicate da subito, ma ci vorranno qualche mese, ma vediamo che quello che dovrebbe essere un elemento di sostegno alle quotazioni del petrolio nella declinazione VTI, insomma, non è che lavorino bene. Mi viene da dire che forse o il mercato ha già scontato tutto, oppure è davvero la Cina a pesare in qualche modo? Sì, beh, per quanto riguarda il petrolio, il petrolio è alla ricerca di un punto di equilibrio. Io, come ho detto, nel medio e lungo periodo rimango di una view rialzista, a meno che chiaramente non vengano rotti i livelli importanti, ma perché? Perché comunque, diciamo, ecco, si va sempre di più verso il tema della sicurezza energetica, e quindi il fatto di garantirsi poi, no, gli approvvigionamenti, sappiamo tutto quello che sta succedendo con l'embargo al petrolio e anche al meno con il gas, però, insomma, quindi questo tema della sicurezza energetica sarà un fattore, ma soprattutto avrà un costo, e quindi io mi aspetto, insomma, che le quotazioni possano, appunto, beneficiare di questo. Secondo me, come dicevo prima, nel breve ci sta questo storno, che è uno storno di breve, legato, secondo me, a quanto sta accadendo in Cina, e potrebbe durare ancora, secondo me, un paio di settimane, due o tre settimane, si parla, insomma, dell'eventuale allentamento di questi lockdown verso la fine del mese, e quindi questo potrebbe essere, diciamo, ecco, una stima, insomma, per andare a valutare poi la ripresa in termini temporali dell'up trend. E allora, anche questa strategia l'abbiamo segnata, entra in campo da domani mattina ai 9.05, rimarrà sul mercato fino a martedì prossimo alle ore 12, e a quel punto vedremo se si sarà attivata o meno in base a quelli che saranno anche i risultati, giriamo pagina e siamo di già alla terza strategia che ci proponi in questo tuo intervento ad House of Trading. Sì, allora, la terza strategia è una strategia in questo caso al ribasso, anche qui, ha quindi altra carta rossa, in questo caso la strategia propone uno short sul gold, mercato che dopo aver testato quota 2.000 dollari nel corso del mese di aprile ha visto, insomma, quel mercato lentamente deprezzarsi fino a andare a scambiare la giornata odierna al di sotto dei 1.850 di sotto dei 1.850 dollari l'oncia. Secondo me, io quello che ho visto nel corso delle ultime sessioni, dopo la rottura dei 1.900 dollari, il livello comunque sia importante perché anche qui con un doppio minimo nel corso del mese di marzo aveva innescato poi l'ultimo importante d'up trend, questo livello è stato rotto al ribasso con una barra ad ampio range nella giornata del 2 maggio e dopodiché il mercato ha fatto molta fatica e quello che si vede bene è un netto rifiuto del prezzo nelle sessioni successive e quindi delle hanging man poi nelle giornate appunto del 4 e 5 maggio scorso che ci fanno appunto capire come in questo momento il mercato si ha in mano ai venditori. l'idea è quella che appunto sul anche qui cerchiamo di sfruttare un eventuale pullback in area a 1.870 dollari lo stop loss è posizionato a 1.890 e il target è a quota a 1.850 e guarda sto veramente osservando il grafico dell'oro ed è difficile capire cosa c'è dietro questa debolezza almeno per quanto mi riguarda diciamo Filippo che ora siamo in un livello importante da cui molte delle prospettive per il gold passa sottolineavi la debolezza però ecco se non si trova difficoltà a ripartire da 1.840 a 1.845 davvero la possibilità di rivederlo sui minimi del 2021 accresca in modo significativo sì beh ma secondo me il mercato ha una base importante a quota 1.670 qui c'è una base importante da da tenere io ritengo che il mercato potrebbe tranquillamente scambiare e iniziare magari anche a lateralizzare su un'area di particolare confidenza per il mercato del gold ovvero quella compresa tra 1.840 e 1.755 diciamo grosso modo è un'area che di fatto aveva contenuto le quotazioni per tutta la seconda parte del del 2021 salvo rari eccessi quindi io credo che magari ecco l'idea potrebbe essere proprio proprio questa di vedere un gold diciamo ecco muoversi intorno a un punto di equilibrio intorno ai 1.800 dollari in attesa poi ecco di capire quali saranno le prossime mosse peraltro è vero le correlazioni eccetera sono saltate da un bel po' di tempo però insomma stiamo davvero vedendo le quotazioni del mercato azionario che scendono le quotazioni di un bene a rifugio come il gold che scendono le quotazioni di un altro bene a rifugio almeno così come è stato dipinto nel tempo seppur con un legame molto stretto che oggettivamente si è avuto con lo scopio pandemia dallo scoppio della pandemia in avanti sto parlando di bitcoin ecco anche quello sta scendendo scivolato anche sotto i 30.000 dollari a bitcoin è una fase particolare che dici se il messaggio che passo è fate ancora più attenzione del solito sul mercato ma assolutamente assolutamente sì è una fase particolarmente delicata l'hai detto giustamente tu tante correlazioni saltate in questo momento l'unica certezza che sembra esserci per gli investitori è il dollaro dollaro che sta vivendo diciamo una fase di forte apprezzamento questo secondo me è al momento l'unico vero bene bene rifugio e quindi per quanto riguarda il resto ripeto la situazione è incerta soprattutto per chi magari ecco segue il mercato azionario ma non solo insomma azionario in generale per chi segue i mercati diciamo ecco soltanto da poco tempo ed è abituato non è abituato diciamo a vedere fasi come queste magari è iniziato a fare trading quando il mercato era prettamente un mercato toro un mercato all'interno di qualsiasi correzione era occasione per riposarsi per riposizionarsi nuovamente long e quindi chiaro che per molti diciamo ecco per lo meno per gli investitori più giovani questa è una fase del tutto sconosciuta e quindi è chiaro che le insidie sono dietro l'angolo e fai molto bene a ricordarlo penso una recente conferenza in quel di Milano dove all'interno di un pubblico molto giovane proprio i più esperti sottolineavano questo attenzione ragazzi avete visto un mercato drogato unidirezionale dove chi comprava anche se comprava male aveva margine modo per recuperare attenzione perché poi il mercato quando si declina in una modalità ribassista diventa molto più difficile da gestire anche in termini di spazio tempo e portata dei movimenti a questo punto andiamo a vedere la prossima strategia la quarta strategia che ci proponi questa settimana sì la quarta strategia è una strategia long finalmente dopo tre short andiamo con una strategia di tipo long è una strategia prettamente di stop picking su un titolo che ritengo insomma particolarmente interessante ovvero Ferrari è un titolo che sta sperimentando una fase di correzione però ritengo che insomma a quota 175 euro ci sia una base di acquisto interessante e quindi diciamo ecco aspettiamo eventualmente che il mercato corregga ancora un altro pochino per venire a prendere il nostro ordine che in questo caso è un my limit quindi a quota 175 euro stop loss a 170 e target a 185 quando si parla di Ferrari Filippo si parla di una realtà almeno così come ho sempre sentito che non conosce crisi di fatto si rivolge a un pubblico quello dei super ricchi che si possono perdere un po' possono aver meno entrate però ecco cadono in piedi secondo te cosa c'è dietro a questo movimento di Ferrari è una questione di vendite prospettiche ovviamente le sanzioni verso la Russia rappresentano un peso anche perché i russi gli oligarchi ma non solo hanno una capacità di spesa non indifferente è la competizione delle auto elettriche cosa è è un passaggio di testimone rispetto a un'altra casa automobilistica quella guidata da Elon Musk come la vedi tu parli chiaramente della correzione dell'ultima correzione che sta sperimentando ma in generale da comunque aver toccato a rotondo anche se non le ha proprio toccati 250 euro adesso la vediamo a 179 è comunque una debolezza non banale sì diciamo che tutto il comparto dell'auto sta sperimentando una fase piuttosto debole qui chiaramente pesa tutta la carenza dei microchip ma non solo di tutta quanta quella componentistica che sostanzialmente non permette diciamo di evadere poi quella che sarebbe una richiesta di auto maggiore quindi qui c'è il problema opposto diciamo il mercato non riesce a soddisfare la richiesta che arriva detto questo però appunto ritengo che comunque sia Ferrari diciamo non lo scopro di certo io sia un brand di caratura mondiale è un brand che comunque sia continua a macinare record su record tra l'altro previsto per la seconda metà di quest'anno se non erro il lancio del nuovo sub il puro sangue e quindi questo dovrebbe fornire un'ulteriore spinta alle vendite Ferrari che peraltro non mi trovi preparato io forse manco un cerchione del puro sangue riuscirei a comprare sì sì però oltretutto è un una un'azienda che sembra dove appunto lasciamo stare le sanzioni ma comunque la carenza di componentistica sembra non impattare Ferrari ha dichiarato più volte di come è a disposizione di come ha a disposizione tutta quanta la componentistica per soddisfare gli opinioni in entrata quindi non risentirà di fatto di questa di questa carenza di componentistica e quindi questo secondo me potrebbe fornire appunto un'occasione di acquisto interessante è chiaro che poi la transizione elettrica secondo me sarà un qualcosa che ma questa è una mia opinione personale sarà un qualcosa che secondo me non impatterà sul mercato delle auto di lusso nel senso che se secondo me se il motore termico diciamo che continuerà ad avere vita tra dieci anni sarà soltanto all'interno di queste di queste supercar e quindi dove effettivamente poi no questo questo motore termico ti dà un'esperienza di guida del tutto diversa rispetto all'elettrico però chiusa qui la piccola divagazione come detto ritengo possa essere un'opportunità interessante in caso di ritesto di 475 euro per chi non lo sapesse sei ingegnere quindi direi che hai proprio la capacità anche tecnica per capire le differenze di prestazioni il tempo vola e a questo punto abbiamo solo l'ultima carta da mettere sul mercato per questa settimana da soft trading sì l'ultima strategia è una strategia una carta rossa quindi una strategia short sull'euro dollaro parlavamo prima appunto della forza del dollaro che stiamo vedendo insomma con il corso dell'ultimo periodo qui c'è da dire che cosa c'è da dire che siamo effettivamente su minimi interessanti perché comunque sia siamo in area 1.05 e sono dei livelli insomma ecco che il mercato diciamo ecco fa fatica a tenere l'abbiamo visto insomma nel corso di diverse di diverse occasioni negli anni passati ogni qualvolta il mercato si è spinto al di sotto di queste soglie limite come potrebbe essere 1.05 ma anche 1.06 il mercato ha prontamente mostrato una reazione stiamo cercando appunto il mercato secondo me sta provando a reagire anche nella fase nello scenario attuale però la realtà è che poi alla fine se vai a vedere non ci sono grossi grosse argomentazioni che possano in questo momento sostenere una ripresa dell'euro nei confronti del dollaro anzi io credo che appunto se dovesse fallire anche quest'ultimo tentativo quest'ultima base di accumulo che il mercato sta facendo in area 1.04 80 insomma ecco è più facile secondo me che il mercato aggiorni i precedenti che non che esca da quest'area laterale quindi che rompa il ribasso tanto per citare un livello 106 e 5 che è il primo livello da tenere d'occhio e quindi chiaro che giusto per considerazione anche gli amici che ci seguono a casa magari non non riescono a vederlo sto volutamente usando un grafico con un time frame settimanale perché perché sì come diceva Filippo siamo vicino a dei livelli assolutamente cruciali strategici ma soprattutto volevo segnalare quella che è stata a mio avviso un'importante violazione al ribasso avvenuta qualche settimana fa e sto parlando di questo supporto dinamico di lungo periodo che proprio è capitolato e da qui la recente e recentissimo test di questa soglia di aria 1.04 e 40 1.05 che è probabilmente cruciale per le sorti tutto però e questo ricordiamolo sempre interno di una trend discendente di più ampio respiro per quanto riguarda l'euro dollaro nel 2008 con il fallimento di di liman eccetera si era arrivati in area 1.60 da allora ecco un lento ma graduale inesorabile discesa delle quotazioni del cambio tra divisa unica europea e quella americana filippo io ti ringrazio per essere stato con noi gli devo solo mettere a referto i livelli da indicare per la strategia andiamo a vederli sì allora è uno short questo è un sell stop che si attiverebbe in caso appunto di rottura a ribasso di quota 1.05 e 15 lo stop loss è a quota 1.05 e 7 e il target è a quota 1.04 e 50 e allora una correzione che chiederei di fare così poi rimettiamo la carta giusta sono da invertire i livelli di stop e di target il target è a 1.04 e 15 lo stop a 1.05 e 70 a memoria comunque sono da invertire e così adesso andiamo a rivedere a metterle ufficialmente a referto una carta rossa sull'euro dollaro per quanto riguarda la strategia proposta da Filippo Giannini vediamo se riusciamo a vedere la carta eccola qui grazie mille e quindi così chiudiamo ufficialmente questo tuo intervento Filippo buona serata intanto grazie Riccardo arrivederci a tutti